Dunque, oggi non se ne salva nemmeno uno, questo è il titolo, questa è la verità perché questa mattina già avevamo capito che non c'era la giusta atmosfera, per dire così, listini asiatici tutti in calo, nonostante ieri sera Wall Street con un colpo di coda si è riuscita nel finale a chiudere il rialzo, ma listini asiatici non ci hanno creduto, c'erano i future a dirci che probabilmente è stato un piccolo bluff, chiamiamolo così, perché sono stati negativi tutta la giornata, a un certo punto c'è stato un tentativo di recupero ma poi con l'apertura vendite, 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 siamo tornati in estate perché siamo tornati sui livelli di giugno per quanto riguarda i tre indici americani, quindi questa mattina tutte negative le piazze asiatiche, quelle cinesi in particolar modo sempre più deboli, torna Evergrande a far parlare di sé, l'altro giorno ha chiuso meno 25% perché non può più emettere titoli a debito per finanziare le proprie casse, questo grava ovviamente sul settore immobiliare e su tutto indotto. Non sta meglio il settore immobiliare negli Stati Uniti e tra poco ci arriviamo perché andiamo a vedere anche i dati di oggi, per cui borse asiatiche in calo, sulla scia sono arrivate in calo anche le piazze europee, vi avevo detto ieri guarderemo per un eventuale rimbalzo i future di Wall Street, dovremo capire se loro partono o meno, loro non sono partiti e noi abbiamo fatto schifo tanto come gli altri. Milano chiude in ribasso dell'1% dopo il meno 0,68 di ieri, torniamo a quota 28.098 punti, perdiamo quota 28.200 e tecnicamente anche i 28.100, il DAX ripiega ancora perché dopo aver perso i 15.450 e 500 oggi non ha fatto il benché minimo accenno a una reazione per cui è sceso nuovamente e perché, se tanto mi da tanto, da quello che vedo negli Stati Uniti stasera finiamo col botto un trittico di chiusure negative per SP, 500, Nasdaq e Dow Jones. Prima di vedere i singoli grafici, vi invito a lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale, bla bla bla. Oggi però non vediamo singoli titoli perché la debolezza è talmente tanta che ci sarebbe l'imbalanzo della scelta, però se pensate di avere qualcosa, qualche titolo interessante da sottoporre alla mia attenzione, scrivetemelo nei commenti, se c'è qualcosa un po' di interessante, un po' per tutti, diciamo così, poi un'analisi mia non mancherà. Se vi fa piacere. Oggi dicevo però, giornata particolare perché andiamo a vedere quello che è successo. Partiamo dai, vabbè, da quello che tiene banco in questo momento, ovvero i livelli dei treasury. Siamo in area 4,55 per il decennale, nuovi top e fin tanto che il decennale e anche il biennale comunque galoppano, gioco forza per l'azionario, c'è poca speranza, insomma, poca propensione al rischio. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, sull'ultimo rialzo abbiamo una divergenza negativa di momentum, per cui può essere che anche a breve, magari già da domani, si possa assistere a una correzione e magari può dare un po' di respiro ai listini. Dopodiché, questo è, diciamo, il sentiment un po' generale, si guarda a questi livelli e anche alle notizie. Riguardo le notizie, oggi Moody's ha scelto la giornata giusta per dire la sua, avverte gli Stati Uniti, un altro shutdown potrebbe costare il rating tripla A. In questi giorni non ne ho nemmeno parlato perché penso proprio che lo shutdown, quantomeno voglio sperare, sarà evitato anche se i tempi stringono perché l'anno fiscale inizia il primo di ottobre. La cosa più interessante che dice Moody's, che tra l'altro sono praticamente le stesse parole che ha usato Christine Lagarde nel suo intervento neanche due settimane fa, sappiamo, dice Moody's, che in un contesto di tassi più alti e a lungo le pressioni sono crescenti sul fronte dell'accessibilità al debito. E sapendo questo è necessario che vi sia una politica fiscale in grado di, diciamo, rispondere. Altrimenti il gioco, insomma, si fa forse un po' troppo duro. Le stesse, più o meno le stesse parole le ha dette Christine Lagarde quando ha detto che la banca centrale fa il proprio lavoro, possono giocare, tra virgolette, giocare ovviamente sui tassi di interesse, ma poi occorre che a livello dei singoli stati vi siano delle politiche fiscali in grado di favorire questo lavoro e quindi non andare in una direzione diametralmente opposta. E per quanto ci riguarda a noi europei la vedo anche forse un pochettino più complicata, visto che dobbiamo mettere insieme tante teste. Non entro nemmeno nel metodo di quello che sta facendo questo governo sul fronte politica fiscale, perché non mi interessa. Ma, lo sappiamo tutti, è un problema. Se non si adottano le politiche necessarie per andare tutti nella stessa direzione, sarà un guaio. Quindi, una notizia del genere già in una giornatina calda di suo non è stata male. Adesso andiamo a vedere anche le notizie macroeconomiche che sono uscite. Queste sono quelle uscite oggi. Come vi dicevo, non se la pasta assolutamente bene nemmeno il settore immobiliare negli Stati Uniti. Permessi di costruzione rilasciati sotto le attese, così come le concessioni edilizie, così come la vendita di nuove case e nuove abitazioni. Gli effetti della politica monetaria della Federal Reserve. Se tu aumenti i tassi, prima o poi la gente, la casa non se la compra, ritarda, ci pensa e vi dicendo. Con tutto quello che ne consegue. Notizie negative per i mercati. Adesso andiamo a vedere anche i singoli listini. Ce li vediamo così. Eccola qua, la pioggia rossa. Tutte le borse asiatiche sotto. Tutti i listini europei, con l'esclusione, se vogliamo, di Londra, che fa un misero più 002. Tutti negativi. E in questo momento anche gli Stati Uniti, tra meno 0,83 e il meno 1,11 del Nasdaq, tutti negativi. Andiamo a rivedere singolarmente. Cominciamo dal Dow Jones, che gratta il supporto. Siamo in area 33.720 punti. Ovvero siamo tornati a giugno, sui livelli di giugno, e speriamo che questo supporto non debba cedere, perché altrimenti avrebbe spazio per una discesa almeno fino a area 33.300 punti, in prima battuta. Dopodiché, SP500, anche lui ha rotto questi minimi, sta allungando il passo verso il basso, e anche qui siamo tornati sui livelli di giugno, e anche in questo caso si spera che possa bastare, con magari un affondo in area 4270, perché dopo avremmo almeno margine per un'ulteriore discesa, fino sulla soglia dei 4200, e il Nasdaq, anche in questo caso siamo sotto i minimi in questo momento, vediamo se poi le recupera per fine seduta, ma anche in questo caso siamo tornati a giugno, e anche in questo caso, in caso di ulteriori affondi, avremmo almeno un altro 400-500 punti di down facili facili. Chiudiamo con il DAX, che oggi non ha fatto il minimo accenno di reazione, è partito dai minimi di ieri ed è sceso, quindi conferma la rottura del supporto, chiude a 15.255 punti, e anche lui, se non dovesse intervenire magari un fattore che possa provocare un rimbalzo, lo vedo scendere quantomeno in area 15.150. Piazza Affari, non ha fatto bene, lo sappiamo, ha chiuso a 28.098 punti, per cui ci siamo bruciati quota 28.200 e 28.100, oggi un piccolo affondo sotto quota 28.200 punti, in caso di perdita di questo minimo, penso che andremo dritti e dritti, diretti e diretti, a testare questo minimo in area 27.870, e poi sotto avremo ancora un piccolo gap da ricoprire, nel caso appunto si debba scendere. Questo lo vedremo, io non ho nient'altro da dirvi, se non ringraziarvi per l'attenzione, grazie e alla prossima.